LED spento, LED acceso. LED spento, LED acceso. Più o meno forte? Più intenso, meno intenso. Ogni tanto, amici, c'è una novità sul panorama degli smartphone. Questo Nothing Phone One si concentra tutto sul lato B, che si illumina. È un po' tamarro, ma ha un sacco di LED che vi aiuteranno nel farvi distinguere dalla massa. Non solo sulla parte posteriore, ma anche il contorno, perché è praticamente un iPhone di ultima generazione. Guardate com'è squadrato qua, com'è tutto squadrato in alluminio. Guardate com'è realizzato ed è piattissimo, un lingottino o tutto nero o tutto bianco, a seconda della vostra preferenza. A me piace sempre lo smartphone nero, ma devo ammettere che anche il bianco è molto figo. Uno smartphone tutto da scoprire, mettetevi comodi per questa recensione completa. Ma prima confezione di vendita, che è veramente scandalosa. Questo è cartone veramente di terza categoria, che si rompe solo a guardarlo. Tutto è impilato in verticale, quindi dovete far cadere lo smartphone o estrarlo molto delicatamente. Cosa troviamo all'interno? Ovviamente lo smartphone impilato qua. Dovete estrarlo voi. E poi questo cartoncino. Cosa c'è all'interno del cartoncino? Andiamo a vedere come si è nascosto un cavo tipo C, tipo C. Non c'è il caricatore, che se lo volete prendere originale vi costa 30 euro. Un caricatore da 33 watt. Una piccola manualistica e poi una spillettina che sembra un aghetto, un aghetto di quelli che usano i medici. L'impugnatura è tipo cristallina, proprio tutta completamente trasparente. Non ci sono cover, c'è la pellicola pre-applicata. E adesso direi che possiamo andare a analizzare il telefono. Una confezione di ventita quindi molto, molto scarsa anche a livello realizzativo, ma a noi interessa il Nothing Phone One. Con un bel display da 6.55 pollici, un Full HD+, un OLED HDR10+, 120 Hz adattivo. Andiamo a vedere subito la sezione display. Eccola qua, tema scuro, tema chiaro, a seconda delle vostre preferenze. E già che ci siamo vi faccio vedere come i bordi siano tutti simmetrici. Brava, brava l'azienda che ha pensato di non fare, diciamo, bordi diversi sui lati. Mi è piaciuta questa scelta, quindi torniamo sul tema scuro e vi faccio vedere la frequenza di aggiornamento alta o standard, quindi adattiva a 120 Hz. Ci sono i tasti, ma se volete potete andare a mettere le gesture, navigazione del sistema, andiamo a cambiare quindi i gesti. Tutto questo per far sì che il nostro Nothing Phone sia più simile possibile ad un iPhone. Infatti i bordi sono tutti omogenei, infatti abbiamo un corpo realizzato interamente in alluminio, con i bordi praticamente piatti, con una griglia che ricorda molto anche quella di iPhone, una porta di tipo C, un ingresso della doppia nano SIM che non permette di espandere la memoria. Infatti abbiamo 128 o 256 GB. Fotocamera selfie da 16 megapixel, sul lato il bilanciere del volume, dall'altra parte il tasto di accensione blocco-sblocco. Come si riattiva? Usiamo il volto, quindi doppio tap, lo vado a guardare e questo si è già sbloccato, oppure esco dal raggio del mio volto e vado a sbloccarlo con l'impronta digitale. Vedete come si sia tutto un po' robotizzato, anche il font, l'orario eccetera eccetera, proprio in stile Nothing richiama un po' tutto il carattere che usa l'azienda per farsi pubblicità. Abbiamo anche il menu a tendina. Se andiamo a tirar giù abbiamo dei cerchi molto più grandi che racchiudono dati mobili, wifi eccetera, basta scorrere oltre alla barra per aumentare o meno la luminosità. Poi abbiamo i toggles, la possibilità di cambiare questi toggles e vedete come sia molto molto veloce. All'interno Snapdragon 778G+, tecnologia aggancia al 5G, abbiamo detto memoria inespandibile, GPS NFC, wifi 6 e un bellissimo display. Questo è uno dei punti di forza, ma non solo perché se lo vado a bloccare, vado a vedere questo, questo per voi sarà una motivazione, sarà un obbligo a non mettere cover opache di altri colori. Qui ci va messa una cover trasparente perché questi led sono tamarrissimi. Led che quando riceverete una telefonata, guardate che bellezza, come si illuminano. Parte una discoteca, praticamente... E mi fermo un attimo sulla back cover realizzata in Gorilla Glass 5, bello resistente quindi dovrebbe essere, fa vedere proprio tutto. Un telefono che è un vedo non vedo, con tutti questi led sottostanti che si illuminano a intermittenza. Poca quindi la personalizzazione, possiamo andare a cambiare sfondo e stile, quindi sia nella schermata di blocco che nella home, possiamo andare a cambiare proprio le scritte, i font, le possiamo mettere in giallo e poi quindi tornare indietro per vedere tutti i toggles nella colorazione gialla, oltre all'orologio dell'Hall with On display. Eccolo qui, andiamo a sbloccare il tutto. E vi dicevo una personalizzazione che non è molta, non c'è molto da personalizzare, purtroppo, guardate, potete cambiare il pacchetto delle icone, io ho messo quelle che richiamano iOS, quindi iOS 16 appunto, e il doppio tap e l'altro doppio tap in riaccensione per riattivare lo schermo. Come gira il telefono? Andiamo ad aprire le applicazioni più famose, andiamo ad attivare anche la mia pagina personale, e quindi, beh, diciamo che tutto molto rapido, tutto veloce, anche il zoom in e out, guardate se richiamo un'applicazione come i 120 Hz, si facciano vedere anche Instagram, vediamo quanto ci mette a reimpaginare, nemmeno tanto, ecco anche la mia pagina, mi raccomando, vi aspetto su JustiTech per non perdervi tutte le novità, le foto, tutto quello che è arrivato e che devo provare. Vi aspetto numerosi, seguitemi. E detto questo, anche una prova su browser, andiamo a vedere la gazzetta dello sport, apriamola e cerchiamo anche il sito desktop, guardiamo in quanto la ricarica, la pagina, concedendo tutte le autorizzazioni, si è abbastanza veloce, devo dire che è ben ottimizzato. Il sistema è il Nothing OS, aggiornato ad Android 12 con le patch di luglio 2022, e speriamo che questo Nothing venga aggiornato anche nel tempo. Nelle impostazioni potrete cambiare l'intensità dei LED, ovviamente più intensi, meno intensi e soprattutto che tipo di forma, che aspetto deve avere il LED, quindi potete scegliere una forma un pochino più tamarra, un pochino più intermittente, che si illumina solo la parte bassa o che si illumina solo la parte alta. Vi faccio vedere il multitasking, diviso in queste pagine tutte in orizzontale, sarà possibile prendere un'applicazione, chiedere informazioni, schermo diviso o andare a vista a scomparsa, e poi dividete lo schermo a metà e andate ad inserire un'altra applicazione, lavorate in contemporanea. Per cancellare tutto, andate all'estrema sinistra, cancella tutte, e tutte le app in background vengono chiuse, e vi parlerei di batteria. Una batteria all'interno da 4500 mAh, ricarica fast 33 Watt, ricarica wireless da 15 Watt e ricarica inversa. Quindi se adesso vado ad appoggiare il mio Nothing Phone su una basetta di ricarica, ed ecco che parte la ricarica wireless. Potete anche donare energia, ovviamente. E a proposito di batteria, vi faccio vedere anche quanto dura. Ho fatto degli screenshot per ricordarci della durata della batteria. Primo giorno, 48% arrivo a sera, con tre ore di schermo acceso. Finisco la carica alle 1 e quasi 30, quindi 1 e 20 del giorno successivo, con un totale di 5 ore di schermo attivo. Quindi non è un battery phone, ma per avere un 4500 mAh, è una batteria ben ottimizzata. In chiamata, nessun tipo di problema. L'audio è stereo, in riproduzione altoparlante. Ora lo sentiremo anche, ma vi dico che durante le telefonate lui può registrare la conversazione nativamente, quindi ha proprio il tastino per registrare. Appunto, vi dicevo dell'audio, passiamo da YouTube Music, andiamo ai brani che ho sul dispositivo. E sentite quanto è alto l'audio, quindi viva voce, altoparlante, volume, sempre molto molto alto, ben bilanciato anche a mio avviso. Vi faccio vedere anche l'aggregatore di notizie di Google, che scorre anche molto molto fluido. torniamo alla home e si parla di rapidità nell'eseguire i giochi pesanti. Asphalt 9, andiamo a premere su gioca e come al solito io vi metto i punteggi di Antutu Benchmark e Geekbench, che non sono davvero niente male. Si parte, ha già caricato l'anteprima della gara. Cerchiamo un po' i lag, ragazzi. Vediamo se troviamo il solito lag sull'uno. Ragazzi, non credo di aver visto lag, quindi ben ottimizzato e nessun tipo di scattino anche quando ci sono tante auto. Andiamo a parlare anche di multimedialità. Vado a girare la cam, sono solamente due, 50 megapixel entrambe. La prima, la principale, stabilizzata otticamente, la 50 secondaria, ultra grandangolare. Quindi sono due ottime fotocamere a livello di risoluzione. Ovviamente, vabbè, la backover l'avete già vista. Sul selfie, sulla selfie abbiamo una 16 megapixel, video 4K, 30 frame per secondo. L'interfaccia della cam è classica, quindi classica, ma anche essenziale, perché con questa freccettina vado a cambiare la risoluzione, 50 megapixel puri, oppure posso mettere i 12 interpolati, posso andare nelle impostazioni, guardate come sia fluido anche nell'entrare nelle impostazioni con l'HDR, HDR live, eccetera, eccetera. La possibilità di passare da i 16 noni a tutto schermo o a 1.1 o in 4 terzi. Guardate anche la velocità di esecuzione, non c'è il minimo scatto, la minima incertezza. E poi si va alla cam grande angolare, si va alla cam principale e alla cam finta, zoomata, con uno zoom massimo di 20 per, quindi è uno zoom anche molto molto forte. Guardate qua, vediamo se faccio una fotografia, poi la rivedremo. Video 4K a 30 frame per secondo, o full HD a 60, slow motion, andiamo avanti, foto, modalità verticale, e nella sezione altro troviamo queste modalità qua. La modalità notte, se la state cercando, arriva in automatico, foto normali, quando siete la sera a fare una foto apparirà una luna qua in alto, voi dovete cliccare per attivare la modalità notte. Allora, come vengono queste fotografie con Nothing Phone 1? Torniamo indietro e andiamo nella sezione della fotocamera. Ecco, questo è lo scatto con 20x, che non è venuto nemmeno male, l'ho fatto al volo così, senza stabilizzazione, senza un cavalletto, insomma, è venuto molto bene. Buone anche nella luce in casa, quindi luce che filtra, ma non c'è una grande quantità di illuminazione, con un buono scontorno, di giorno vanno molto molto bene, anche la grande angolare è bene, secondo me distorce un pelino sugli angoli, ma questione proprio di un niente, buoni colori, buona la messa a fuoco, la selfie cam molto buona di giorno, ovviamente quando manca la luce così così, vi dico che di notte tende a schiarire molto, lui va in automatico, va a schiarire molto, a me sinceramente piace, non è un camera phone, ma è un telefono che offre degli scatti veramente molto molto validi. Appassionati, secondo voi, quanto abbiamo speso? Per portarsi a casa il nuovo Nothing Phone One, prezzo per la versione base 8,128 giga, 499 euro, per la versione 8,256, 529 euro, e la versione top, 12 giga di RAM e 256 giga, 579 euro. I prezzi non sono bassissimi, lo ammetto, ma ragazzi, avete in mano un prodotto esclusivo con questa back cover tamarra che ha questi led fighi e una forma ripresa dai nuovi iPhone, quindi questo fa felici tutti quelli che amano il tamarro e tutti quelli che vogliono un iPhone con il sistema operativo Android. Un sistema operativo Android snello, semplice, stock, senza tanti fronzoli, poco personalizzabile, ma lavora molto molto bene. A me sinceramente è piaciuto, non è un camera phone, non è un battery phone, non è personalizzabile, ma è un telefono che almeno lui un'anima ce l'ha, il suo stile ce l'ha e vuole differenziarsi dalla massa. Grazie per l'attenzione, like al video se vi è piaciuto stare in mia compagnia, iscrizione al canale per non perdervi le nuove recensioni. Ciao!